Oggi sono usciti i dati ed è incredibile il primo consumo non solo di hashish ma di pasticche perfino di cocaina. Arriva a 12 anni, ci sono ragazze e ragazzi, non ragazze, bimbi, perché a 12 anni sono bimbe e bimbi che siccome sentono alla televisione, è il cantante, è il politico, è lo scrittore che dicono vabbè però, dai, la droga poi, alcune droghe non fanno così male e poi la prendono per buona. No, io voglio un'Italia libera e pulita dalla droga e gli spacciatori in galera con le palle incatenate ai piedi e ai lavori forzati, dal primo all'ultimo.